Venerdì 27 aprile una cena di beneficenza per la costruzione di un ospedale pediatrico in Kenya. I bambini ricchi hanno la possibilità di andare negli ospedali privati che sono a livello europeo e guariscono. I bambini poveri spesso non vanno in strutture sanitarie, non vengono nemmeno visitati oppure vanno in ospedali poco altrezzati. E spesso muoiono. Noi abbiamo pertanto fatto questa iniziativa per finanziare la costruzione di un ospedale di cui mi sono preso io l'impegno dell'edificazione che avverrà nella missione delle suore del Cottolengo, una grande congregazione che ha sede a Torino, in una situazione ideale perché è un posto all'equatore in Kenya a 1800 metri, perciò non ci sono le zanzare e di conseguenza non c'è la malaria che è una malattia che in Kenya i bambini la contraggono come da noi l'influenza, c'è acqua pulita e buona perché sopra c'è una foresta equatoriale da dove sgorga acqua che viene messa nelle dighe e soprattutto poi abbiamo la possibilità di realizzare un ospedale con strutture moderne. Quando il professor Farnetani ci ha chiamato in causa i quattro amici al bar, Giorgio Casini, Paolo Basco, Severino Baldi, e il sottoscritto che sono il portavoce, ci siamo proposti subito con le nostre bende particolari, bende particolari che stavolta non le bende degli anni 60-70 ma bende al femminile con la new bende del Banana Home, bende la dia bende di Paola Pompei, il nuovo quadratore di Rossi Lamberto e l'orchestra del Marino Pagliai. Poi sarà l'intervento di Fabio Martoglio con il poeta retino Dario Salvi. Ecco una pericena con gli chef di MasterChef venerdì 27 aprile. Abbiamo avuto una grande risposta da parte di produttori locali di eccellenze e il nostro menu sarà improntato, avrà un'impronta retina diciamo prettamente locale per promuovere appunto una serata molto importante per una raccolta fondamentale e far conoscere ancora una volta se mai ce ne fosse di bisogno quelli che sono le nostre eccellenze territoriali locali.